Occorre fermare questa progressiva crescita dei contagi. Da domani sarà operativa una ordinanza che riguarda una larga parte della città e se domani risconteremo assembramenti in altre parti della città sono costretto a procedere ad ulteriori chiusure. È il momento di grande tensione e grande preoccupazione. Al tempo stesso comincia ad emergere con sempre più forza l'esigenza che il Governo nazionale e il Governo regionale adottino provvedimenti sempre più chiari e severi e adottino anche provvedimenti di sostegno delle attività economiche che rischiano di essere travolte da comportamenti irresponsabili dei cittadini. Bisogna che tutti ci rendiamo conto che è in gioco la salute nostra, dei nostri cari, dei altri concittadini, ma anche al tempo stesso c'è il rischio di precipitare verso un lockdown che sarebbe un disastro per le attività economiche della nostra città. Grazie a tutti.